I dipendenti delle province sono poco più di 4.300, dentro l'organizzazione delle funzioni si parla di oltre 1.600-1.700 persone che dovrebbero essere accompagnate con il trasferimento delle funzioni. È una fase delicata, per noi importantissima perché oggi con l'approvazione della legge in Consiglio regionale si avvia il percorso concreto di accompagnamento del trasferimento delle funzioni e quindi del personale. È un momento in cui vogliamo trasparenza, vogliamo chiarezza, vogliamo rispetto delle regole e abbiamo chiesto attraverso prima il protocollo e poi la risoluzione che accompagna la legge una serie di misure di garanzia nel metodo e nel merito che dia continuità ai servizi e salvaguardia dei posti di lavoro.